Non regala molte sorprese il weekend dello sport ischitano in tutte le discipline, quasi tutti i risultati hanno rispettato i pronostici della vigilia, a cominciare dal calcio e nel girone di eccellenza, dove ancora una volta l'unica squadra a festeggiare i tre punti è l'ischia e non poteva d'altronde andare diversamente contro il fanalino di coda nuova Napoli Nord. Partita mai in discussione al Mazzella con i ragazzi di mister Angelo Iervolino che hanno dovuto attendere prima una giocata del solito Castagna per sbloccare il match, per poi chiudere i conti nella ripresa con i gol di Florio, Chico Arcamone e Sojuzzo. Nel finale, a partita praticamente chiusa, non sono mancate due reti della nuova Napoli Nord, 4-2 quindi il risultato finale. Sfortunato invece il Real Forio che in casa della squadra probabilmente più in forma del campionato esce sconfitto per 2-1 e il Savoia a sbloccare la partita, poi i biancoverdi trovano il gol del nuovo arrivato Cirelli sul rigore, ma a 10 minuti dalla fine Trimarco raddoppia per il Savoia. Niente da fare per il Barano in casa della Maddalonese, nonostante i tanti gol, 8 in totale, i padroni di casa si assicurano la vittoria sul risultato di 5-3. A fine 2021 la classifica dice che l'Ischia è terza insieme al Savoia a quota 28 punti e a sole due lunghezze dalla frattese seconda, che ha pareggiato con l'Ercolanese e non passa un buon momento dal punto di vista societario. Comincia a volare invece la capolista puteolana prima a 36 punti, mentre seppur tra le polemiche stecca il Napoli United in casa del Mondragone e dunque la squadra allenata da Maradona viene superata dall'Ischia e dal Savoia. Tira una brutta aria per Real Forio e Barano. Gli Aquilotti sono in zona retrocessione diretta e ha 4 punti dalla zona play-out, mentre il Real Forio è nel pieno della zona calda e abbastanza distante dalla salvezza diretta, 8 punti. Sempre nel calcio ma in promozione, piove sul bagnato per Procide l'Acquameno, Procidani battuti in casa 3-1 dall'Oratorio Don Guanella e l'Acquameno battuto 5-1 dall'Ercolanese. Ma sicuramente non potevano essere queste le partite da vincere per poter provare a centrare una salvezza sempre più difficile da raggiungere. Ritorna a festeggiare invece il Casamicciola in seconda categoria. I ragazzi di Mister Buonomano vincono 3-1 lo scontro diretto con il Liternum e sono ora secondi in classifica a pari punti con il San Marcellino e a 3 punti dalla capolista Orfri Calcio. Nel calcio a 5 Serie C1 tutto facile per la Virtus Libera Forio nella partita valida per la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia. I ragazzi di Mister Gino Monaco battono 8-2 lo Scafati Santa Maria e staccano il pass per l'appuntamento importantissimo che avrà inizio il 5 gennaio e in cui figureranno le migliori 8 squadre del calcio a 5 campano e la Virtus Libera è ovviamente tra queste. In Serie C2 non riesce l'impresa alla Realischia che perde di misura con il Tigre-Casa al nuovo 4-3. In Serie D il Forio pareggia all'ultimo minuto un derby che sembrava già in cassaforte per la Fenix mentre nel girone C il Barano passeggia con l'ultima della classe Marigliano vincendo 6-0 e l'epomeo dà filo da torcere alla capolista Football Academy perdendo 4-2. Domenica negativa invece per il basket. In Serie B il Forio perde contro la capolista Grigento 52-66 ma delute soprattutto dal punto di vista della prestazione dimostrandosi poco voglioso di provare quantomeno a rendere difficile la gara alla squadra siciliana. La classifica vede al momento il Forio al quintultimo posto a quota 10 punti insieme alla Viola Reggio Calabria e poco avanti rispetto a Cassino e Monopoli oltre che Avellino a parte il fanalino di Coda Formia. La salvezza non è irraggiungibile ma serve cambiare passo con il nuovo anno visto che la vittoria manca ormai da oltre un mese. In Serie C Silver si interrompe la striscia di vittoria della cestistica Ischia sconfitta dal parete 76-64. Una vera e propria occasione persa per la squadra di Cocce Russelli che resta comunque in gioco in quella che è una classifica molto corta. Infine il weekend sportivo sorride finalmente al volley. L'Ischia pallavolo in Serie B trova finalmente la prima vittoria in campionato vincendo 3-0 contro il Marino. Tre punti che servono soprattutto per il morale prima ancora che per un difficile rientro nella corsa per la salvezza. Grazie.